Perché Michelle Unzichere e Giovanni Angiolini si sono lasciati? Un esperto ha parlato della fine della loro relazione Fra Michelle Unzichere e Giovanni Angiolini è già finita, la conduttrice e il sexy dottore Sardo si sono lasciati Ma perché? Cosa è successo? La loro relazione, mai ufficializzata, sembrava procedere a gonfie vele, anche se a quanto pare qualcosa è andato storto A parlare della coppia ci ha pensato Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 Leggi anche, Ilari Blasi disperata su Instagram, aiutatemi cosa è successo all'ex moglie di Totti? Michelle Unzichere e Giovanni Angiolini si sono lasciati Roberto Alessi, ospiti di Morning News, ha parlato della relazione naufragata di Michelle Unzichere e Giovanni Angiolini Nonostante i due si frequentassero da diversi mesi e avessero affrontato le presentazioni ufficiali in famiglia, oggi si sono lasciati Ma il vero motivo qual è? A quanto pare la causa della rottura fra la conduttrice svizzera e il bellissimo dottore sarebbe stata la vita lavorativa di entrambi e le situazioni totalmente diverse dei due Michelle Unzichere, infatti, si divide fra la sua professione e l'educazione delle sue tre figlie, di cui due ancora molto piccola e Giovanni, invece, ha puntato tutto sulla carriera Ecco le parole del direttore di Novella 2000, sempre parlando di Michelle Unzichere, poi, Alessi ha detto, l'avvicinamento a Eros Ramazzotti archiviata la storia d'amore con Angiolini Comunque, la Unzichere è stata localizzata in Franciacorta in un lussuoso resort vicino a Eros Ramazzotti, con il quale ha ormai un ottimo rapporto Nonostante i fan soggino un ritorno di fiamma, Michelle e il suo ex non hanno alcuna intenzione di riprovarci A tale proposito Roberto Alessi si è espresso in questo modo, al momento, comunque, né da parte della conduttrice svizzera, né tantomeno da parte del medico sardo sono arrivate dichiarazioni sulla fine della loro storia Seguici su Instagram cliccando qui Grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video